www.feyyaz.it è chirurgico, è tutto scritto sembro uno vero? l'avete già fatta quella prima? allora andate a fare come cazzo papà no no io ne farei ancora uno ma tu sicuro che qua e là stai bene? ok no impasta bene, vedi che impasta è bellissimo io sto riprendendo è un film questo, ci diretteremo come devono vado? si? da capo 2, 3, 4 take a chance if you want to don't you go in double or quit give up a chance tonight la voce tua l'amorezzo papà si e lasciamo quella seguiva da contare questo mi manchi il numero 87 votate grazie 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4